Ecco la giraffa che è in posizione alta, l'istrice entra in questo istante, la mossa è lasciata valida e la contrada è la giraffa che prende la testa della corsa, poi dietro c'è il bruco, la contrada è la pantera e le altre vanno a affrontare la curva di San Martino, gira la giraffa, traiettoria molto esterna batte la giraffa, cade la giraffa, cade la contrada nell'oca e a questo punto è in testa la contrada della pantera che gira la curva del casato, pantera, bruco, poi la contrada nella torre, uno scosso, la chiocciola, l'istrice, il drago la tartuca e l'aquila, ancora la contrada della pantera che in testa sta per affrontare la seconda curva di San Martino contrada della pantera con scompiglio e anda e bola, gira la contrada della pantera, girano le altre non cade, mi sembra nessuno, la seconda curva di San Martino, ancora pantera, poi bruco, un cavallo scosso la contrada della torre, il drago, la chiocciola, l'aquila, la contrada della tartuca, pantera, ancora pantera in testa terza curva di San Martino, pantera, scompiglio, anda e bola, girano, cade la contrada della pantera lo scosso che prende la testa della corsa, è il cavallo scosso della contrada dell'oca, cade la contrada della torre è lo scosso dell'oca, è lo scosso della contrada dell'oca, mi sembra che vince questo palio, quindi zio frac grazie 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 grazie